Perdura così tanto non importa Qua abми le dite che siamo partiti, perfetto Oh mamma mia Questo Questo Grazie Qui Dove è che ci sei? Non fare caso a me No, vedo solo che stai facendo un po' di casino Ma non importa quanto pare Sai com'è, lo monta un piumone Se lo dici tu Ok Qua parerebbe poterci essere Forse Non ti vorrei mettere anche quella La madonna al ca... Che cosa? Ah ecco, la togli Sai, forse la vorrei... Ascolta, ho capito che so freddolosa Ma non esageriamo Eh, che ne so Sì, che il piumone con su qua coperta di là Non mi fai fare la saura Mi sveglio con venti chili in meno Perché non sarebbe un po' di via Però, sai Venti chili in meno Sì, easy proprio vuoi la vita Va bene Allora, si va No Sì Le Aram sono divertenti E quindi faccio Aram E voi Ho già anche preso Kled e Gianna E appena uscirà prenderò Evelyn Nel K di A Evelyn Da zitto Sono le missioni della cosa, dell'evento Che dovrei farle in normal Ma si possono fare tranquillamente quasi tutte anche qui A parte draghi e baroni Zyra Mi sta bene Zyra Questa è una build che avevo provato con Asche Giusto per rallentare due anni in più Chi è? Jinx? L'unica che c'era Jinx Vabbè, prenditela Naturalmente Santi Dio No, Aurelion Sol No E invece Niente Giochiamo Aurelion Sol E facciamo schifo con Aurelion Sol Perché non lo so giocare Scorch E dovrei mettere la presenza di spirito Mettiamo la presenza di spirito E riduciamo i controlli Per quanto possa Potrei prendere Jace Ma Jace proprio non lo so giocare Quindi lo evito come la peste Come lo schifo Jace Non è che mi fa schifo Lo schifo io Pam 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 Vediamo se è quanto Se è quanto lagga Tutto ciò Perché se fa come Fortnite Eri vuol dire che in sti giorni La connessione non c'ha voglia Deve morire Una botta al microfono Deve morire la connessione mia E niente Ritornerò su Isaac di nuovo MECAWAY Basti Mastery Mastery Io e Mastery abbiamo un piccolo problema Che si chiama Lui mi demolisce Appena mi vuole vedere Che controlli abbiamo Per bloccare Mastery Zyra Sì Zyra Jinx Jinx Zyra L'ulti di Ashe Se ti tira bene Le abilità brand La sua spassiva di stun Che non No Non mi fido Cioè non mi fido Non fa in tempo Mastery O quando si butta Lo demoliamo Proprio malamente Di botte sui denti O niente E tra l'altro Se si butta Cioè Shang può ultarlo E farlo resistere un pochino di più Giusto Così Tanto per Jarvan Dipende Forse la mia ulti può Vagamente bloccarlo Mastery Vagamente Giusto Quei Boom Te ne vai In quel paese A questo punto Provesco comunque Aurelion Sol A Jace Perché Jace Scoppi No in realtà Potevo Non lo so Non lo so Tanto Sia Aurelion Sol Che Jace Non li so giocare Non potevo randomizzare più Va bene così Non abbiamo Sì 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 Non abbiamo un tank Dove essere La butto lì Proprio A palumbelli Dove essere io Il tank Il suo team Certo Confidati Oh boia La grafica è ancora a posto E Io preferirei anche Farmi No Questa va meglio In realtà Mi vedo Mi vedo Ma cosa sto facendo qua Sono stupido Ragazzi Vedete rassarli voi Io a rass Zero Se non si avvicinano loro Cosa sto facendo qua Cosa sto facendo qua Eh Questo non lo dovevo aspettare Non è stata Per noi Se non muoiono Non dovrei Dammi la goccia In realtà Tutta la terra Potrà essere Un attimo Cos'è Sta Dicendo Continua Poi Grazie a tutti Vedono perché sto nel cespuglio Vedono 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 Bella BESTIA CON L'ULTIMO Bella friend Arrivo Zira Tanto serviva solo a me immagino No 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 Sì Non so cosa ha voluto fare ma l'ha fatto male Ok mi deve spiegare Ashe perchè sta attaccando Shen Dove è finire di buildarmi questo in realtà quindi mi sa che vado su questo però Perché sono un bravo stella, ecco perché Non so bene cosa è successo ma è successo qualcosa Sì Sì Ho tirato una ulti su quello Shen che puttana è la prima cosa che io non potevo Bravo Mastery Eh Colti come delle pericotte I Minion Presumo Non lo so cosa è morto ma è morto Ciao 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 Allora 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 ha mirato a me per un'ora ma non è servito a niente ragazzi io potrei prendere anche la cura però è morto di terrore, infarto e paura brava Jinx brava Jinx questo dopo si non penso possano fare più molto in realtà allora era molto bravo Jarvan ma anche Shank lo seguiva abbastanza bene però però niente ho sentito la citazione da Krillin anche se parlavo al mercante sotto puttana Eva ragazzi non combattiamo adesso rilassiamoli ma non combattiamo la città è la città di la città di fricolata non è benissimo si è un'attacco che è un'attacco Ho capito Vaffanculo Giavan Immaginavo sarebbe successa una cosa del genere Ma l'ho fatto comunque Che schifo Ok Mi sarebbe cdre comunque Non possiamo attaccare la cosa Per me questo master lì è inutile Non ha ammazzato tre persone che erano lì Le stelle sono tante Milioni di milioni Prenditi questa cura Ragazzi voi vi avvicinate Io chiudo che non ho voglia Io stavamo chiudendo va bene così Vedo che una live non va al massimo ma non va neanche a schifo Quindi mi sta bene così Ah ovviamente Ciao Jinx Bella è Jinx Quanto ho fatto di punteggio non lo so nemmeno Ho fatto schifo In generale Ho fatto Due onori Chi è che mi ha visto giocare Qualcuno che non stava in partita Ho fatto più danni di Brand Davvero Oh va bene Non avete visto niente immagino comunque Perché sono stupido di nuovo Lo devo sempre ricordare Quando faccio roll Devo fare switch 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 Tra l'altro Non dimentico tutte le sacrosante volte Tu sai assolutamente no Già meglio Kennen Anche se Zoe Io ho dei Lakartus E Zreal Zreal adesso fa bene Se ne sono andati Oh boy Il ciodo del ferro vecchio Della meccanica Della meccanica Il ciodo del ferro vecchio Della meccanica Del precision Oh bella Mecchi meccanica Mecchi meccanica Mecchi meccanica Oh bella Mecchi meccanica O se potremmo giocare with Kled Per provare la skin Ma ne Ma passerà il tempo Come stiamo messi qua Vabbè questa In arame un attimo Veramente 75 Musisco ancora 45 assist O accisioni Ho stato solo 30 In questa partita Che schifo Dai 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 No Va bene Questo appena Le trovo uno Lo faccio Anche se non so chi sono Non voglio andare a vedere Questo poi devo farlo Ma per cazzo i miei ovviamente Oh ma volete accettarne una? Tutti Per favore Bisinghiozzo Vain Vain Vediamo se mi da Gianna No Va bene Oh Giochiamo Vain Voglio solo vedere una cosa E' una delle ultime giocate Vain Ci faccio le una per Vain Ok poi boh Dark Harvest Vain In Aram poi Ho visto certo Prionfo La carità Ah la carità Non so cosa ho detto Colpo di grazia Colpo di grazia Colpo di grazia Ma mai nella vita Non ho abbandonato No sono stupido io Via It's ok No mamma mia Quando vedo una Lux Contro Mi viene sempre un po' male al cuore Vain Vain Gianna TF Victor Allora io Lux Se so giocare Vain E non so giocare Vain La scrivo Punto capetto Non so giocare Vain Quindi non scriverò Né le Q Né le ulti Di Lux Perfetto Perfetto Praticamente io e Miss Fortune Guardiamo Xaia e Lux E le saccagniamo di insulti In teoria Allora In teoria è un cavolo Io Io sono Una Xaia fatta male Miss Fortune va letalità Assolutamente No anzi Potrebbe andare Taita e Taita Non so perché Non potrebbe andarci Anche perché voglio Una Miss Fortune Che ti vede le Q Che ti uccidono Dalla vita In Perché sono I Dark Harvest Miss Fortune Quindi Gianna TF Victor Miss Fortune Luzai Emerding Shinsawa Z Tra l'altro piace Come vogliono cambiare Il Dark Harvest Carino Idea carina Per farti Shootare più in fretta Non è ridotto a poco Non vuole morire Basta un autoattacco Secondo me lo buzzeranno Per cose a cui Non dovrebbe stare Perché Anche su un support Il Dark Harvest Magari Puoi Shottare uno Con un Brom No Non credo Anche perché Non raccoglie Oddio La nera raccoglie Forse Brom Dai Minion Che ammazza L'Alleato Boh Può essere Può essere Come no Ho detto Vain Gianna TF Victor Lux Sai Emerding Shinsawa Z Chi è che manca a caricare Scusate Nessuno Eh allora Partisse Comunque Una partita con un champion Che non sapevo usare L'ho vinta No basta Questa è persa Io vain Ripeto Boh Un champion vain C'ho fatto una penta Una volta Forse Ancone son sicuro Partiamo di storm Razzor Facciamo la build Della critico Perché La build Da one hit Anche se dovevi farmi la cosa lì Vabbè Victor Victor Benvenuti Nella B Sul Lamp Allora Io so che non devo usare la E Ed è l'unica cosa che so Questa è la Questa è l'unica cosa che so Dove Questa è la Questa è un po' Questa è l'unica cosa che so Questa è la Grazie Grazie per non aver flashato Doveva morirci quelle merding Con quella vita che gli è rimasta Non so perché avessimo una FK in tutto ciò Ok Scusi hanno uno uno, hanno questa FK loro Ahia che mala Non ci entriamo con la singolarità deluxe Allora 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 Ma perché ce l'ha con me Merding Non so Pelum Mamma è morta È morta Non me l'avevo mai salvata in tempo Eh qua me lo sono meritato Ho proprio Prova Gianna Ho proprio ignorato Shinzao e Lux Non li ho guardati neanche una volta Sì tanto gli tiro un altro A con ogni volta di Papa Ormai Non penso che lo stia raduti a caso Non penso poi Faccia un po' quello che vuole Voglio dire È lei che gioca Ragazzi Si è Shinzao qua dentro Ti impari Don't fuck with Vayne Che male Che male Che bellissimo Ragazzi Una mano Che sono bloccato lì in mezzo da tutti Dai Non so se mi hanno scudato o meno Quello non l'ho visto E qua Z ti invita tra l'altro Che franice spuglio Oh no E qua To Z o no No Eh eh Che franice Mi ha gioco Mi ha uccisioni Mi ha uccisi Un Please Mi ha ucciso Un intervattato Adè E' una bella idea Però non è un po' scherzo bene Grazie Xaia E' morto Non ho schivato ma Non è un po' scherzo, non è un po' scherzo 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 C'è già non abbiamo Victor? Eh l'ho vista, l'ho vista Non è un po' scherzo Lo so che la rubi di me fa c'è una merda di nulla Eh l'ho vista, l'ho vista, l'ho vista, l'ho vista... Però, bravi. Che build è questa? Risforo veramente il tormento di Liandry. Cioè, le Tidevins moddio. Mamma mia... Mamma mia... No, non fare strontate. Ah, ma nostra FJ. Posso farci? però l'ho uccisa eh non mi fai questo però comunque eh sto sopravvivendo vai ragazzi un po' te tu dai mi sono fatto che non sta facendo danni comunque in tutto ciò eh ho capito ma che scuda per me ma scuda lui ma che sono stupido looks basta andare a rompere le balle aia di Carey è il Carey non è il Carey eh ho bloccato comunque cosa non potrò fare più niente ho fatto una stronzata io però ha fatto una stronzata io maledizione looks ti prego addio no non ce la fanno difendere io non so come so si grazie bene eh c'ho provato no you non è lo fate non sarebbe mai bastato lo scorso di Gianna ma troppo danno quella lì E dato che è così la storia, dov'è? Almortius! Non cazzo ai buildani pure questa trascidere quel maledetto di... La scienza o muore? TF ci fai dritto in faccia, eh che bisogna dirti? Non adoro per il full critico, non posso! Ci ho voluto provare, non essere avvito a cazzo! Dovevo attivare l'ulti perchè se no sono stato stupido io! Questo è stato un suicidio idiota! La scienza o... Quasi tu? Ha fatto una paniculti lei! Sì! Arrivo! Ho usato Lux! Ho usato Lux! Ehm, dovrei farmela! Penetrazione armatura! Ma solo per lui non ne vale la pena! Se lo ammazzava il super minuto sarebbe stato bellissimo! Se lo ammazzava il super minuto sarebbe stato bellissimo! Se lo ammazzava lo sp drebo... Se lo ammazzava! che 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 non ci deve lux non ce la facciamo non abbiamo nessuno che possa abbiamo tutti gli state fate che possono avvicinarci a lux e fa pure abbastanza tf tutti a caso va bene mancatissima no no è inutile è completamente inutile non so giocare in genere non so giocare di carry diciamo quindi ehh non può andare di questa sforzo non fa danno perché quella build mista del genere cosa vuole fare danno? non fa danno con la pioggia neanche quella cos'è quello? quello non è un po' non è un po' Sto ancora stavendo andando ai cespugli, sto ancora stavendo andando ai cespugli. Quasi! 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 Madrizione! Quasi! 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 Devo andare per forza di questa Non voglio ma Non voglio ma In effetti dovrebbe arrivare più che altro Gianna si vuole ultare non lo so Ma perché Un po' più lontano Gianna dai Dai! 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 Dai, Dai! Dai! Liu? geldi! Grazie a tutti. Non serve a nulla purtroppo. Non serve a nulla purtroppo. Basta adesso eh! Dai! Che manca? Mi sforcio. Ok. 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 Oh mamma mia, quanto sto dovendo entrare in tu minuti di Aram? Facciamo diventare gosso il poettino, si io sono full build, e vuoi fargli autoattacco in faccia ma... No niente, ed è pure sovravvissuto, maledetto! Io l'ho perso, non si ammazzano i carry, ma perchè la end of the day, gli stivali, ma si, va bene, non torneremo mai in tempo per vincere, per fare qualcosa in realtà, manca Shinzao. Persa! Peccato, è andata bene fino alla fine! A me sembra sempre, oh, poi muoio io, vieni, ma anch'io qua stavo attaccando Shinzao, sono un povero idiota! Eh, purtroppo è anche l'unico che potrà ammazzare Shinzao! E niente, Victor! No, non ci sono i nostri... Vabbè... Ho preso l'icona del gatto... Gatto, gatto, che punteggio fai? Poi magari cambio schermo... Meglio di così... Io penso di non poter... Eh, ciao! Ciao! Ho fatto B+, ho fatto schifo! Danni a danni, vabbè, ma... Che fei danni ne facevo? Mi sforcio un... Non ho capito perchè si è fatta la build a P... Cioè, allora... Mi sforcio un'AP... Funziona se vuoi usare tanto la pioggia, se non vuoi usare la Q e l'ulti... Perchè l'ulti scala sull'AP... Ma poco! Poco è un cazzo scala sull'AP! La pioggia scala sull'AP... Non so quanto... Non ne vale la pena di farsela AP in Misfortune... Purtroppo... Perchè sarebbe carino... Poter variare come con Kaisa... Anche se con Kaisa è comunque misto... Ma con lei puoi andare o fisso da uno o fisso dall'altro o misto... Se proprio vuoi... Non lo fai, però lo fai... Questa risposta è andata mista... Perchè lo salei? Poteva andare in full letalità... Tirare una Q che le shottava a loro tutti quanti... Nooo... Oh ma basta di carry! Malfa... Malfait... Piuttosto ovviamente da... Piuttosto ovviamente da... Piuttosto ovviamente da mi vuole i bie... No! Prendo Malfait... Attenzione! Devo andare sul secolo... Devo andare a P! Che schifo! Lui? Eh, me lo faccio vedere il smooth and speed. Devo andare full cattiveria assassina. Forza. Non posso credere che sto per giocare Malfight AP. Io abborro Malfight AP. Non posso fare altro. Vedete che devo tirare un... qualcosa sul culo di qualcuno. No. Ma che sei scemo? Ho detto devo tirare qualcosa sul culo di qualcuno. Eh? Ho detto devo tirare qualcosa sul culo di qualcuno. E non capite di tirar sul mio? E chi c'è qui attorno? Ma tirano da qualche parte, mi fai saltare. Eh, anche quello era un obiettivo. Bababia! Cosa cazzo faccio? Eh, sicuro mi do contro gli autoattacchi. Facciamo via build armi, cioè... Malfight AP fino a un certo punto, però... Se vanno critici mi buildo... Mi buildo tank, piuttosto che... Che non ne vale un cazzo la pena di fare. Cioè, ne vale la pena perché sciotti qualcosa, ma non lo so usare. Come tanti altri champion non lo so usare Malfight. Lo... Cioè, usarlo e saperlo usare sono due cose diverse. Perché non sai quando devi ultare qualcuno bene. Perché io ulto. E so che devo ultare con... Peccando un punto sono inarrestabile. Mamma mia. Stun hanno due di Leone e uno di Brand. E l'auto di Caitlyn. L'auto di Caitlyn è... Non è piazzato. Quindi basta evitarlo o... Se non lo piazza... Spirla. Semplicemente. Malfight AP. Santo iddio! Dammi quest'affare, per favore. Malfight. 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 Benvenuti nella... Limonet... Malfight. 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 quasi la mia bomba ragazzi occhio è stata molto bella da vedere ammetto così poco oro mi ha dato per un assist ok ok Non se ne aspettava Ho fatto una stronzata Ho fatto tanto una stronzata Nooo anche tu Però almeno lui l'ha ammazzato Non ho pensato una cosa buildar Scommetto tutti per prendere quella con poca vita Adesso lo piantiamo Ci sarà Leona qua dentro? No Vieni Leona sono qua Madonna La cattiveria assurda Che cattiveria Ma proprio cattivissimi Perfetto Dov'è? Dov'è la mia bella Randwin? Così così aspetta di prendermi questa Se una builda ce la va? No dopo che solo non posso Faccio più veloce che posso P***** Noi va il perro Nada Tu la cura Tu la cura Quella era morto Mi sta killata Sbagliato ma non è come ha flashato Piuttosto Piuttosto di prendere solo una assist Brava Ultimi prendo occhio Tu la cura Puede Uno Tu la cura Puente Puente Quidensi Eh no, mi dispiace ma non potevamo fare più di così. La bomba, la bomba, la bomba. Non...quanto. Eh, volevo. Un orange. Ma l'ho uccisa! Ok, allora finiamo questo e iniziamo la mia bella randuin. Tanto voglio dire, tra di chiari da critico. Penso...questa potrebbe...no, te lo dico anche lui, credo. Cazzatissima leona! Tanto Brandon non mi fa paura per il momento. Quando inizierà a shottarmi forse sì. Adesso...neeeh. Ho tirato l'ultima più brutta mai vista. No, va bene. Vabbè. No. No. Allora, c'è Leona lì dentro di nuovo, tanto per cambiare. No. Sono terribili di ultarli. Basta divearmi Leona, non è il caso, veramente. Eh, oh. Non è brand da ultare, mi sa. Non è brand da ultare, non è... ... ... ... ... ... bella jinx Grazie a tutti. 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 No, 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 voli! Non voglio rinunpirla. Oddio. Quasi! L'ha ustionato? Peccato. Mi serve una riduzione di ricarica probabilmente. Ho messo la penna di spirito! Non lo toglievo un po', ma sono stupido! Torra è caduta, sì. Oh, guarda un po', guarda un po' chi c'è. Yeah, basta ammazzare brain! E' morto per... quando? E' morto per... comunque terzo... Ma va bene, non importa! Ultare brand è la priorità! Fare il casino alle spalle mentre tutti ammazzano Leona perchè Leona può bersagliarne uno comunque... Cioè, a meno che non siano tutti vicini come degli schifosi! Allora, di armatura sono a posto! Non è vero, mi vido anche questa! Vado a invitarmi questa piuttosto... Eh, non avevo mai in tempo, scusate ragazzi! Ho il mio tempo! Scusa, nano! Ah, ma sono tutti! Eh, mo ce ne andiamo! Ho dovuto usare tutto! Carne e cucina! Non ci è il pelo! Maledetto il pelo, maledetto! Non avevo vinto questa! Veloce riduzione di ricarica alta! E' AP! Mi stavo cercando una volta tanto tempo fa di farmi l'AP malfight! A me piace che Leona insista, comunque! Che è... Che si butta? Ragazzi aspettatemi! Arrivo anch'io! Arrivo anch'io! Arrivo anch'io! Non so che posso! Plam 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 plam! Bracca il treno! E li vecco io i danni quando non importa La migliore ulti che potessi tirare! Le ha radunate i Volibir, almeno le una le ha radunate i Volibir, gli altri... ok Poi indietro è rimasta la live, vedo Voli, no gli altri sono stati bravi, ma Voli di più Voli, Voli, Voli Lì non mi ho accorto che c'erano tutti, sennò... Dieci kill, ma il fight! Ma di che stiamo parliamo? Con le FDVC come tutti poi Testata ha dovuto tirarmi tutto dietro! Mamma mia quanto lunga questa Ok... Bella sicuramente non la landa degli Evocatori Ehm, va bene, cerchiamo di iniziare un'altra Sai che è l'ultima che faccio, se dura così Via! Che cosa ho dato qua l'icona dell'evento? Non è il client! Non me lo ricorderò mai! Mai! Oh, ciao! Non sono un'eroina, sono solo una yordle con un martello Devo giocare POPPY? Beh dai! Ferisco Trash? No perchè POPPY sono l'ultimo che sbaglio Ho fatto tutto Trash Tank Scossa? Scossa, si no, con Trashoglio scossa Almeno ho più resistenza quando mi butto in mezzo a scatafiscio Presenza fisica, secondo fiato, crisalide Presenza fisica Revitalizzare Trionfo Eeeh, questo Trenarcia, trionfo Perfetto! Così! Lo giocherò anche in un Trash No... Neh, gioco... E' in un Trash eeeh... Eh... Ok... Pam pam Adesso parte, eh L'ho messo subito, almeno parte subito Almeno non me lo dimentico dopo, diciamo Come una palla da demolizione Che brutta le situazioni Quella situazione di restare in italiano è veramente brutta BRUTTA Ma io vedo di nuovo 3 di Carey Kaisar e 3 e 2 di Carey Quindi mi buildo come prima praticamente Solo che c'è anche Velcots Quindi devo fare una in modo attivo Comunque mi farò la... Allora, mi devo fare la corazza spirituale Per aumentare la cura di qualunque cosa E poi tutto... Gli stivali E per forza contro gli autoattacchi Perché abbiamo Sivy e Kaisa e... E Kathleen Non è che Mumu non ne tiri di autoattacchi Anzi Però non dovrebbe fare danno quella Mumu Se si builda tank come sembra Poi... Si obeia con... Senza le une fatte vedo Spero che non sia FK Io tirerò un annuncino Sperando di meccare qualcuno E che i miei alleati Ecco soprattutto Perché l'unico potrebbero Non fosse anche Jace Se Tristan si butta in mezzo Mentre ha pieno qualcuno Se me lo tiro addosso un conto Nooo... No, no, no... Ho voluto provare Trash Tra l'altro che io non è che sono tutto sto... Anche con i grab in generale Però mi diverto A provarlo A provare i grab Non a provare i Trash Sivy e Kaisa Velcots Non troverai cosa mi serve Velcots non ha il flash tra l'altro Se lo becchia... Se prendiamo Velcots una volta è mort È mort È mort Jace Tristanat Ok Buongiorno Eh... Di che parto? Di spirit... No... Non posso partire di spirit Non conto un fin così Devo per forza partire di... Beh questa... All'inizio gli fa malissimo questa Di funzione Siamo cazzuti Siamo letali Siamo anche stella oscura Quindi non serve Cazzo io spero che tu C'abbia un buon motivo Per la presa dell'immortale È mortale Ma non trappole... Tante trappole... Tante trappole... Oh beccame... Oh beccame... No ecco ti prego non mi dire così... Kaya... Kaisasu Sì... 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 Guarda... Sì... Il mi asata di Cassiopeia È molto bello Ehi... Cazzo... Mi spiace... Sì... 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 Eh... Sì... Guarda quello lei Guarda l'assalo un po' ma Come non l'ho fatta prendere Dai Non sa che questo ecco Non servirà a molto Cioè Appena è arrivato vediamo un po' Non mi ispira molto la patina in generale Io non sto prendendo nulla Questa non è stata lungimirante Questa è l'ultimo instantanea Questa è l'ultimo Eh oh niente Beh è morta? Morta si No bravissima invece Altra o che morta? Belco Bella Belco si è ancora vivo si Scorso il testamento non è più in ricarica Grazie Andata quella Non è quella più brutta Che abbiamo mai visto Anima mia Torna a casa tua Pogra socio Come l'hai lasciato Non l'abbiamo becata con nulla Però l'ho fregata Questo vuol dire Non conosce la vera oscurità Non conosce la vera oscurità È stata la cosa peggiore Che io abbiamo mai fatto Ho fatto una cagata Tutto l'altra Ma che mai bello Ho fatto una cagata io Che schifo che ho fatto Ho fatto Mamma mia Mamma mia Eh Ci vedo anche Che è stata distrutta Ho fatto una cagata Dito l'altra Si vedo Io ci provo a tirarle Ste cazzo di catene Ma non partono Ho fatto una cagata 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 a 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 di cosa non sono morto attaccano non c'è anche modo da attaccarlo ho proprio scappato senza fare nulla penso che pensi che chase funzionia col cancello è l'altra cosa no non esiste la mia catena non 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 Porto? Sì Possiamo tancare a Momo? Ancora colpito una volta Vedo Sai com'è Non volevo persegliera a Momo E guarda che succede Maledizione E danni di cosa sono morto E di tutto sono morto Tutto 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 Non vale veramente la pena Di biglietti contro gli addicari Come in Come in Io li venirei a depushare Come in Non ci credo Con un po' Jason non ho capito Con un po' 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 Ok Ok Con un po' Con un po' Con un po' Ma io sono troppo forti Non posso più fare così Non potevo farlo prima All'inizio Adesso no Adesso mi serve Adesso mi serve Mai Riuscivo a farla quella Spazio 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 Sì, la All'inizio Bene Quasi Non l'hai letta senza l'Italia Jason No Quando volete Dai Che cazzo stavano facendo sti due Mi stavano guardando morire Ragazzi Collaborazione magari Non è la mia tua 80 Che schifo Non l'hai letta senza l'Italia Ragazzi, ho capito! Io non posso farci nulla. Non posso farci proprio un cazzo più che nulla. Io gli sono spesso neanche da avvicinarsi. Eh, ma perché non muori, dai! Cioè, guarda, guarda, c'ha... c'ha 5.000 di oro! No! L'oscurità! No! 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 no, Fallout mi annoia o quindi porto l'oro e porto Isaac e mi sa che domani penso porterò Isaac perché venerdì inizio e finisco l'ultima con Isaac perché mi rilassa tanto va bene chiudo qua salve a tutti salve